Musica e risorgimento è il tema della mostra Patrioti con lo Spartito, ospitata fino al 19 novembre a Palazzo Lascaris. Promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, l'esposizione vuole ricordare il ruolo che la musica popolare ebbe nell'unire gli italiani durante il periodo risorgimentale. Curata da Livio Musso, la mostra propone riproduzioni di quadri, ritratti, spartiti, fogli volanti e pianeti della fortuna distribuiti per la strada dai suonatori degli organetti di Barberia. Arricchisce la rassegna un video con alcuni spezzoni del cortometraggio Il canto degli italiani di Maurizio Benedetti, girato all'interno del caffè Florio e nella casa di Lorenzo Valerio in via 20 Settembre a Torino.